Stefano De Martino è fidanzato, o non è fidanzato? Da quando la sua storia con Belen è finita, al ballerino sono stati attribuiti tantissimi flirt. Il dossi si è scatenato, ma lui è rimasto in silenzio. Non ha confermato né smentito nulla. Non ha confermato né smentito nulla. Poi, come aveva rivelato Signorini, sembra che anche quando De Martino era in Honduras, i due si sentissero regolarmente. Sembra che fosse lei a suggerire a Stefano cosa indossare, sembra che le loro chiamate fossero lunghissime. Poi è risuccesso questa estate. Gilda e Stefano sono andati in vacanza insieme, anche con il piccolo Santiago. Beh, due più due fa quattro. Poi, però, Gilda aveva spiazzato tutti quando in un'intervista, aveva dichiarato che lei, e De Martino erano solamente amici. La cosa puzzava di bruciato. Perché alla fine tra loro c'era una complicità, che superava di gran lunga la complicità, che c'è tra due amici. Però poi è uscito fuori che forse i due continuassero a negare per depistare il gossip e vivere in santa pace la loro relazione. Ma la faccenda non è ancora chiusa. E stavolta, per chiarirla, è sceso in campo Stefano in persona. Intervistato da Grazia, Stefano ha votato il sacco e raccontato tutto. Boom, punto c'è un legame molto forte. Tra loro, questo lo ha confessato subito. Ma non sa come chiamarlo. Non c'è una definizione spiega Grazia la conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un'empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l'uno nell'altro. E ha aggiunto. Per me è una figura di riferimento molto importante, ma sono spaventato dai rapporti di coppia, e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l'amore di una coppia, ha sempre una fine. . . In pratica Stefano ha confessato che non vuole che il rapporto, che ha con Gilda finisca. . Secondo voi questa non è una dichiarazione d'amore? Beh, per noi lo è e come. Eppure continua a dire di non volere una relazione fissa, pur avendo una schiera di pretendenti. Sono persone che non mi conoscono bene perché altrimenti non si candiderebbero. . Se avessi una figlia femmina e si presentasse Stefano De Martino, la chiuderei in casa. . . Sono un uomo inaddomesticabile, ingestibile, troppo indipendente. Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai. . . Eppure ho un'idea romantica dell'amore, anche se non la metto in pratica. Insomma, la coppia mi ispira, ma mi spaventa. . . .